salve ragazzi ben ritrovati tutti con le barzellette del vostro amico Tom oggi Tom vi racconterà la barzelletta Pierino e la moto ed allora buon divertimento con le barzellette del vostro amico Tom Pierino sogna di possedere una motocicletta ma è ancora troppo piccolo per averne una e prendere la patente per poterla guidare ma ma come sapete tutti Pierino è un birichino e così complottando con il suo amico Oreste vanno nel garage del nonno e prendono la sua vecchia moto tutta ammaccata gli mettono subito un po' di benzina la mettono in moto e salgono tutti e due con Pierino alla guida per fare un giretto attorno a casa sfortunatamente voltato l'angolo incontrano i vigili urbani che immediatamente li fermano dicendo a Pierino mi dia la patente e Pierino sconsolato risponde non ce l'ho è il casco è il casco incalza uno dei vigili dove avete il casco? e Oreste risponde non abbiamo i caschi signor vigile ma lo specchietto dov'è lo specchietto retrovisore? no non c'è signore non c'è lo specchietto replicano in coro i due ragazzi allora allora il vigile sempre più arrabbiato alzando la voce sclama ma qui manca la targa dove avete messo la targa? no non abbiamo la targa e non sappiamo dove sia il vigile il vigile prende infine un taccuino e comincia a scrivere dicendo riepiloghiamo quindi Pierino lei è senza patente senza casco senza specchietto e senza targa giusto? sì sì signor vigile giusto ed il vigile concludente esclama ed allora Pierino adesso come la mettiamo qui? e Pierino risponde la mettiamo la mettiamo appoggiata al muro signor vigile perché la moto di mio nonno non ha nemmeno il cavalletto arrivederci alle prossime barzellette ciao 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 ciao